sì quante volte ci siamo sentiti oggi ma guarda anche non lo so quanto 4 questa è la quarta siamo da pt78 ciao ragazzi tiktok siamo tornati e liana poi manda gli annunci iniziano le pull non si fa la scommessa perché ci siamo veramente rotti adesso andiamo e ci portiamo questa furina a casa quando vuoi pt79 non è possibile è molto ci volevo signori signori no dillo liberati liberati da tutto prima singola di oggi un applauso a marietto pt1 non si attirà un pt intero no no facciamo un'altra da 10 va bene va bene va bene allora andiamo ragazzi a 83 ci siamo primo 5 stelle spammate le nostre furine allora questa è la 74 75 eccola con lei 76 ecco mi mancava bene bene meno male finché mancano siamo contenti adesso abbiamo la certezza abbiamo trovato qualcosa che ti mancava se te appunto come hai detto di tuo consueto vai di multi potrebbe già uscire in questa multi qua perché andiamo a pt80 quindi potrebbe esserci la prima furina andiamo diretti andiamo diretti e allora let's go ci andiamo a prendere la prima furina eccola qua allora siamo entro pt80 di sicuro per la prima furina vediamo dov'è ok a caso compaiono anche loro ogni tanto eccola qua che è davide la 75 prima del pt comunque prima del pt abbiamo altre 5 singole vediamo se ne esce un'altra ciao angi buonasera allora abbiamo iniziato a poco abbiamo trovato una mona che però gli mancava e poi furina e il ragazzo di oggi pomeriggio che era disperato che andava in singole a pt79 ha trovato furina quindi ce l'abbiamo fatta siamo soddisfatti ora abbiamo la c0 ci mancano le altre 6 furine raga andiamo a pt25 vediamo 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 eccoci our dà incrociamo le dita allora 26 dai 25 ah scuosa hai machinesi ho sbagliato grazie al mio corretto poi andiamo andiamo avanti 18 senza un attimo di brain lag io ero andata avanti di 10 Violet era avanti di 1 ok quindi questa è la 19 andiamo a 20 ok 21 22 si ptc 1 si ptc 1 furinaci 1 pt22 allora teoricamente questa è la multi del 5 stelle quindi vediamo dove ci porta esatto ok potrebbe essere qualsiasi perché il pt preciso non lo sappiamo quindi vediamo dai vogliamo l'arma di furina l'arma di paeso quella accanto è questa però magari non è sola vediamo vediamo poi ci spostiamo di line non abbiamo sprecato singole se poi non esce si riparte con le multi però io adesso andrei di singole quindi questa sarebbe 67 circa questa singola qua eccola infatti perfetto speriamo se a lei no dai due volte questa maledetta adesso è la multi del 5 stelle dobbiamo chiamarne non 1 ma 2 a prescindere da che cosa sono dobbiamo chiamarne 2 ci siamo ragazzi 76 77 si si c2 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 si siamo singole quindi non sprechiamo le pull singola skip no senza skip guarda con 4 stelle questa è la vista oro un'altra 72 è questa dai io mi fermo su 72 più l'anno mi sento di andare l'esame di analisi mi ha frustrato di meno eccola ok 70 a sfregio ora ci sarà Charlotte ma al 100% lo so già guardala che arriva guardala che arriva la prima la prima dai ok faccio stare nel senso il primo 5 stelle personaggio intendo Charlotte 4 stelle non sono le carte di Fabio ma questa è una storia che racconteremo in un'altra occasione in un'altra occasione e adesso andiamo a 70 no no 80 scusami qui c'è 5 stelle ok si si hai ragione allora 71 72 73 74 74 ecco la 75 76 76 si si c3 c3 a fatica ci ha fatto sudare mamma mia 7 camice ma l'abbiamo portata a casa c3 oh 1 si riparte colpiti mica mica ti mancava mi sembra di si buono 2 questa è 3 invece e dovrebbe finire la multi con questa 4 yes mica nuovo bella questa multi però furina c3 charlotte c6 e mica c0 molto 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 bella quando te la senti andiamo ok la prima è la singola la 76 potrebbe essere subito ok no 70 ecco subito deia che ti mancava quindi però magari siamo inizio multi quindi potrebbe non essere sola potrebbe essere la multi della vita deia più una furina garantita vediamo 1 2 3 vabbè 4 questa tipa 5 6 7 8 fine della multi ok vabbè personaggio nuovo fa sempre comodo visto che comunque tanti 5 stelle non ne ha quindi molto bene qui c'è il 5 stelle il punto è che ce ne siano 2 speriamo ce ne siano 2 vediamo 71 72 73 74 75 76 70 bella la rai 77 78 78 79 ultima all'ultima se no se la tiravamo una singola prima non usciva nemmeno in questa multi 70 non mi piace no come non ti piace perché non dovrebbe piacerti apri ma piace a tutti per il popolo vediamo bella questa sempre carina anche perché nel mio account non ne vedrò nemmeno una allora qui c'è il 5 stelle giusto sì cioè dovrebbe dovrebbe ok vediamo ok se andiamo oltre la 76 già stiamo andando solo a PDA oh bene questa ci piace murti da 9 vediamo secondo me anche qua vuole arrivare fino in fondo dai 89 oh Gesù oh Gesù tutte le volte arriviamo al soft va così maledetta ho preciso un'altra multi guarda è bella ragazzi da qualche parte questo mosto doveva venire account sbagliato doveva essere l'account di Hammer ma noi ci crediamo ah tra l'altro è uscito all'ultima quindi siamo andati a PT0 sì sì il PT basso con doppio 5 stelle non ci dispiacerebbe affatto vediamo se magari ci fa questo regalo di chiusura tanto altre pulle che vengono a casa ma com'è la tua posizione Violet su di lui? che non avendo molta scelta l'ho usato per molto tempo giusta cioè ha senso ha senso quindi ce l'hai gridato praticamente sì allora cioè insomma allora un cavolo però insomma meglio meglio trovarlo quando uno comunque una persona lo usa rispetto a qualcuno che non lo usa quindi Wimps.